Ogni giorno moltissime persone al mondo fanno business affidandosi alle piccole imprese, proprio come la tua. Le piccole imprese non possono permettersi alcun margine di errore. Hanno bisogno di risparmiare tempo e denaro senza mettere a rischio la propria sicurezza informatica. Kaspersky Small Office Security è la prima soluzione progettata per le piccole imprese. Fornisce protezione in tempo reale dai più recenti virus, da spyware e da tutte le minacce informatiche. Utilizza un potente database di firme di malware aggiornato in tempo reale e consente la scansione dei file in modalità in the cloud. È necessario che tu mantenga la concentrazione e che massimizzi la produttività dei tuoi dipendenti. Grazie ai nuovi strumenti di gestione web di Kaspersky Small Office Security puoi gestire e personalizzare l'utilizzo del computer controllando l'uso che i tuoi dipendenti fanno di applicazioni, social network e download di file. Tutto da un unico PC. Il tuo business dipende dal business dei tuoi clienti e i tuoi clienti contano sul tuo servizio e soprattutto sulla sicurezza. Affidati a Kaspersky Lab per proteggere i tuoi dati ed i tuoi clienti anche quando un computer è danneggiato o rubato. È possibile eseguire da remoto backup, memorizzare tutti i dati, informazioni aziendali e password in file protetti, al sicuro da perdita, furto e attacchi informatici. Non importa quale sia la tua attività né se lavori con PC o notebook, Kaspersky Small Office Security è sempre al tuo fianco. Con Kaspersky Small Office Security puoi gestire, aggiornare e mantenere la protezione dei computer e dei server in modo centralizzato da un unico computer. Kaspersky Small Office Security è uno strumento di sicurezza all-in-one che offre aggiornamenti frequenti per mantenere il computer aggiornato e le prestazioni al top. Puoi contare anche sul supporto tecnico diretto da parte degli esperti di Kaspersky Lab. Grazie a tutti.